Cari amiche e cari amici, qui ancora una volta il vostro San Ten Chan. Beh, come dire, in questi giorni ho avuto dei problemi con il Wi-Fi. Non so se sia il vicino di casa che si aggancia, oppure il mio host che mi manda il segnale moscio. Però è da molto tempo ormai che ho trascurato Sprecher. Me ne rendo conto e faccio ammenda. Faccio ammenda con tutte e tutti voi che mi avete fin qui gentilmente seguito. Ero arrivato a avere quasi 700 iscritti a Sprecher e poi naturalmente li ho persi un po'. Adesso siete 600, molti dei quali neanche parlano italiano. Quindi mi fa piacere che mi seguite. Io vi ho trascurato perché nel frattempo ho caricato dei video musicali nel mio profilo di Instagram ed ho anche scoperto già da molto tempo che si possono fare dei live col cellulare in YouTube. Siccome io non ho molto tempo per fare l'edizione nel computer del video e poi caricarlo dal computer in YouTube anche se vengono di cattiva risoluzione i live fatti con il mio cellulare dall'applicazione di YouTube lo stesso mi accontento perché magari spendo mezz'ora o un'ora a fare un programma invece di fare un video di 15 minuti e poi impiegarci un'ora, un'ora e mezza per editarlo e per pubblicarlo e poi magari per fare il post-editing. Una cosa sul post-editing, visto che questa è una trasmissione a ruota libera. Tanto so che mi seguirete in pochi dal live. Spero che non si interrompa. Guardano il video. Che dire, è una situazione difficile. Quindi adesso mi sono rassegnato, non faccio più il post-editing. Evito di ripostare i video su tutti i social forum perché non serve a praticamente niente. E oggi mi voglio rilassare un po', non voglio fare un video. Allora ho voluto riprendere a praticare con Sprecher perché sentivo che stavo trascurando Sprecher. Qualcosa mi mancava nella vita. E visto che Sprecher non ti dà del denaro anche se ti seguono in molti e hai molti ascolti allora dicevo faccio qualcosa di disinteressato. tanto con YouTube mi hanno dato 150 dollari dopo quattro anni. Allora, cari amiche ed amici, qui alle 17, circa, 17 passate, 17 ed 8 minuti, circa, non so, il mio cellulare magari con i minuti non va molto d'accordo, si bisticcia. vi sto trasmettendo che dire mi viene in mente la canzone dei Righiera l'estate sta finendo e veramente sì, l'estate è già finita perché dovremmo stare in autunno e non so voi alle 17 che state facendo se state portando i figli al doposcuola se li state prendendo dal ginnasio se state viaggiando in macchina e non lo so io ho iniziato le mie trasmissioni in Sprecher nel lontano pensate un po' voi nel lontano 2013 che avevo il cellulare Samsung Galaxy Young 5360 e mi ricordo che la mia applicazione di Sprecher era la seconda quella arancione, quella verde non ce l'ho avuto la 2.0 credo a ricordi logica poi era uscita la prima applicazione quella nera, simile a questa con meno funzioni che nel mio cellulare non funzionava allora protestai e loro in privato mi dissero di scaricare di nuovo la vecchia versione fino a che non adattarono la nuova la terza anche ai cellulari più piccoli poi vabbè è successo che il mio Galaxy Young 5360 si è rotto però si è rotto dopo che mia madre mi ha regalato l'attuale cellulare l'altro me l'aveva regalato nel 2013 ed era del 2011 il cellulare questo me l'ha regalato per Natale 2015 ed è uscito nel 14 è un Motorola Moto X seconda generazione che per il momento mi funziona molto bene spero mi continui a funzionare molto bene anche nel tempo a venire niente ho saputo dell'incidente del tragico incidente aereo che c'è stato del povero pilota che è morto schiantandosi in mare non so se a Anzio o a pratica di mare luoghi da me prediletti non tanto per il mare ma per come si mangia bene il pesce o si mangiava bene il pesce soprattutto a Anzio a me l'acqua fredda non mi è mai piaciuta mi è sempre piaciuto andare al mare a Miami luogo peraltro in cui l'acqua è così calda da essere la culla dei tornados e degli uragani quindi è un paradiso tropicale Miami è tutta la Florida ma è anche un inferno di uragani e tutto c'è il suo pro e il suo contra beh dicevo Anzio che bella Anzio me la ricordo sono anni che ormai non vado sono più di 16 anni e che vuoi fare gli impegni della vita andavamo a passeggiare con mia madre a Anzio e me lo ricordo e non è vero come diceva Sandro Pertini e non è vero io mi ricordo che siamo andati in gita al Quirinale e era una delle tante commemorazioni che si fanno in Italia che la gente soprattutto le segue per fare festa non per commemorare nulla allora ci ha ricevuto tutta la classe certo è anche vero che lui doveva ricevere molte classi in un giorno e non le poteva ricevere tutte insieme però lui aveva questo suo modo di intercalare molto pertinesco quando io ero giovane e non è vero perché non è che faceva la domanda era un'esclamazione e non è vero quando io ero giovane come voi e non è vero ebbene erano altri tempi e mi ricordo e non è vero che c'era la guerra e che mancava questo e quell'altro perché lui da giovane avrà fatto la prima guerra mondiale vabbè sono ricordi che vengono a ruota libera a ruota sciolta a proposito di erota mi viene la sacra rota e in mente il papa questo papa che è tanto odiato dagli ortodossi cattolici ed è anche poco amato dai progressisti cattolici in pratica non è amato da nessuno d'una parte dicono che sta minando le fondamenta della chiesa dall'altro dicono che è troppo flessibile indulgente e poco duro nei confronti della corruzione che c'è nel vaticano ed un'altra ancora dicono che ha le mani legate che non può far molto per vincere la corruzione all'interno del vaticano comunque io ho visto comunque e perunque io ho visto un'intervista che ha rilasciato in questi giorni in aereo perché non solo è un papa che vola come Voitila papa Giovanni Paolo secondo ma è anche un papa che oltre a essere un papa volante è un papa che dà interviste negli aerei ciò che Voitila non faceva Ratzinger in cambio cioè Benedetto XVI né volava né dava interviste allora questo papa ha detto che in Messico il diavolo ha passato fattura adesso io stavo riflettendo è stato un qualche cosa di duro che ha detto se se la risparmiava era meglio ma riflette l'idea secondo la quale Dio castiga i peccati come la liquefazione del sangue di San Gennaro a parte che io sono ateo però voglio dire dire che il terremoto è stata una punizione divina per i peccati commessi è una cosa che nel ventunesimo secolo nel 2017 non si dovrebbe dire abbiamo passato di 17 anni il terzo millennio è veramente la gente lì sta soffrendo molto perché uscirsene con questa sparatata che poi c'è sempre stato questo dubbio nella teologia se succedono cose cattive come il terremoto messicano o gli uragani allora sono due o Dio che esiste ed è onnipotente non solo permette queste cose ma addirittura le realizza perché se le realizza lui è cattivo di suo ma se le permette è compiacente è malizioso quindi sarebbe un Dio malvagio Dio non è sommamente buono e sommamente onnisciente e sommamente potente ma usa la potenza in modo maligno perché cioè distrugge ci sarebbero altre forme di castigare che mandare l'inferno eterno e mandare disgrazie sulla terra oppure molti dicono che come ha detto il Papa è l'intervento del diavolo che ha passato fattura allora in questo caso Dio o permetterebbe al diavolo di castigare la gente per i propri peccati e questo significa che lui non lo può fare e quindi Dio non è onnipotente oppure Dio non può impedire al diavolo di fare del male e nuovamente Dio non è onnipotente sarebbe impotente perché ci avrebbe un potere limitato il diavolo quindi o che o se agisce per conto e volontà di Dio o se agisce autonomamente ci avrebbe un potere uguale a quello di Dio Dio non sarebbe onnipotente perché starebbe reagendo il diavolo per conto suo quindi o il diavolo è l'ombra di Dio quindi non è nient'altro che Dio stesso e la faccia oscura di Dio e Dio non è sommamente buono ma è onnipotente perché può fare il male ma non è sommamente buono o Dio se esiste non può impedire il male o ne è compiaciuto e quindi non è onnipotente quindi o non è sommamente buono o non è onnipotente una delle due cose ciò che dicevano i manichei che c'erano due dei uno dall'alto dei cieli che non era tangenziale col mondo e l'altro nel basso che era il demiurgo che operava per conto del Dio buono ma che l'aveva tradito e si chiamava diavolo con questo vi lascio perché sono già arrivato ai 30 secondi che mi restano non voglio iniziare una nuova trasmissione grazie per avermi seguito dal vivo e dalla prossima su Spreaker conto di fare un nuovo radioprogramma al più presto ciao e mi raccomando seguitemi in youtube buon pomeriggio a tutte e tutti e diffondete questo programma e condividete i miei video in youtube ciao amici dal vostro Sant'Encian grazie per avermi seguito